Girgenti Acque Cisterna è quasi all'asciutto nelle abitazioni di queste strade, dopo ben 11 giorni di mancata erogazione. Non si tratta quindi del recente spegnimento dei pozzi dovuto al maltempo di un paio di giorni fa, ma di un disservizio legato a un qualche guasto risalente ai primi del mese. Passiamo ad un altro quartiere periferico, quello della Perriera. Qui ci hanno segnalato la scarsa illuminazione quasi del tutto mancante in Piazza La Rosa. Il posteggio nelle ore serali pare sia totalmente al buio, divenendo così pericoloso per chi lascia lì le proprie automobili. E sempre alla Perriera nel sistemare una perdita idrica in zona via Mendola, gli operai di Girgenti Acque hanno combinato un piccolo guaio. Hanno perforato il tetto di un garage collocato sotto la strada in corrispondenza della via Ariosto. Avevamo segnalato ieri al nostro telegiornale la perdita idrica e fognaria in questa strada, perdita che aveva reso la vita impossibile ai residenti, che ieri si sono visti anche letteralmente cadere il tetto addosso. Il proprietario del garage aveva immediatamente oltretutto pubblicato la foto su Facebook per rabbia e disperazione, rimbalzata poi da un profilo all'altro, compreso quello del consigliere Monte. Ma gli operai di Girgenti Acque sono corsi subito in ripari, provvedendo a risolvere l'inconveniente.